Saranno in 150, forse anche più, e sfileranno compatti per protestare nel paese del ministro Maria Elena Boschi. Sono i risparmiatori azzerati di Banca Etruria. Alcuni di loro hanno formato il comitato Vittime del Salva Banche e domenica saranno a La Terina, nel paese della ministra Boschi, ma non sotto casa perché al corteo sarà perbito anche solo di imboccare la strada della residenza del ministro, a comunicarle alla presidente del comitato Vittime del Salva Banche Letizia Giorgianni. I manifestanti tornano a La Terina dopo la manifestazione dello scorso febbraio, quando i manifestanti riuscirono ad arrivare fin sotto le finestre di Casa Boschi, un corteo allora composto da oltre 150 risparmiatori arrivati da ogni angolo della Toscana, Empoli, Cecina, Pistoia e naturalmente Ancarezzo, ma anche da fuori regione e diretti verso il centro storico di La Terina. Le richieste ai risparmiatori sono quelle che fin dall'inizio li hanno spinta ad organizzarsi in associazione. Le vittime del Salva Banche torneranno quindi a La Terina, in provincia di Arezzo, nel paese natale della famiglia Boschi. L'appuntamento è fissato per domani, 25 settembre, in Piazza della Repubblica, a partire dalle ore 10.